Buongiorno a tutti, mi chiamo Filippo Boschi e ho conseguito la laurea triennale in fisica all'Università di Parma. Attualmente, da due anni a questa parte, lavoro presso il Soprasteria Group con il ruolo di consulente banking. Per il mio lavoro devo secondare le esigenze del cliente, aiutandoli nello sviluppo del software che più si adegua alle loro esigenze. Durante i miei tre anni a fisica ho accumulato tanti bei ricordi, uno ve lo vorrei raccontare. Durante l'esame di geometria analitica, uno, mi stupì molto del fatto che la professoressa ci lasciasse tenere aperto il libro con le informazioni utili agli esercizi durante l'esame e mi dissi questo esame sarà assolutamente facile e speriamo che tutti gli altri siano così. Ovviamente quell'esame non lo passai perché la professoressa sapeva qualcosa che io non avevo ancora imparato, ovvero che è possibile ottenere tutte le informazioni del mondo ma è anche necessario saperle usare nei contesti adeguati. Questo risogliamento e anche tutti gli altri che ho imparato all'Università di Parma mi sono stati molto utili nel mio lavoro. Infatti adesso ho accesso a tutte le informazioni di cui ho bisogno perché posso guardare su internet come sviluppare un software per il mio cliente. Devo però essere in grado di utilizzare quelle informazioni in maniera adeguata per garantire il miglior lavoro possibile. Grazie. 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 Grazie.